Comincia il girone di ritorno Mirko Antonucci, domani Pescara-Cremonese bisogna iniziare nel migliore dei modi, no? Questo è poco ma sicuro. Sì, cerchiamo di continuare come abbiamo finito il giro di andata e speriamo di ottenere subito una vittoria. Tra l'altro il Palermo ha perso in casa contro la Sernitana, una ottima Sernitana che invece era stata travolta proprio dalla Pescara prima della sosta. Sì ma io penso, l'ho sempre detto, il campionato di Serie B è difficile, me ne sono accorto subito e tutte le squadre sono competitive e all'altezza di tutte. Quindi la Pescara insomma ci deve credere per forza di cose, anche nella promozione diretta voglio dire. Non parlo di promozione ma parlo comunque di lavorare ogni giorno e vedere cosa ci serve il futuro. Che cosa ti ha insegnato questo campionato di Serie B? Tra l'altro 14 presenze non sono poche al primo campionato con i grandi. Non sono poche ma appunto a fare sempre meglio e spero che nel giro di ritorno andrà ancora meglio di come andata il giro di andata. Comunque mi ha insegnato che è un campionato difficile, che le squadre sono attrezzate tutte bene e ci si può divertire comunque. Qual è il tratto distintivo tra un campionato primavera e un campionato di Serie B? Il tratto distintivo è che sicuramente giochi con persone più grandi, più esperte e non giochi più con ragazzini. Quindi è totalmente diverso. Quindi anche dal punto di vista, se vogliamo, fisico, no? Sì, assolutamente. Infatti mi sto migliorando anche in quello perché comunque serve e continuo a lavorare come ho sempre fatto. Devi cominciare a segnare perché adesso... No, quello assolutamente. È un obiettivo di ritorno e sono sicuro che arriverà. Pilon ti chiede anche un lavoro di sacrificio che tu fai benissimo, devo dire, perché insomma copri tutta la fascia. No, ma penso che se un mister viene e ti dice che devi aiutare anche in fase emensiva e hai 19 anni, di certo non stai lì a protestare che non devi farlo. Io sono contento di come sto facendo, ovviamente vorrei segnare di più e penso che ci riuscirò al ritorno. Hai sentito tu Minello? Sì, l'ho sentito, ma non lo so ancora, non so a dirvi niente. Non l'hai spinto un po', dai, accetta questo. No, non lo so, questo non ve lo posso dire. Comunque vedremo cosa succederà. Ci puoi spiegare un po', illustrare le sue caratteristiche? Perché magari lo conosciamo di meno. No, ma io non devo illustrare niente perché lui è un grande attaccante, è un grande giocatore e se viene ci può fare soltanto bene. Un grande giocatore, cioè caratteristiche, quindi attacca la profondità fisicamente, no? Sì, è veloce, fa gol, è veloce, penso che è uno dei migliori del suo anno. Vedremo cosa succederà. Grazie, Mirko.